Si sente? Sono Cristiana Mancinelli, sono una volontaria per la tutela del suolo, dell'ambiente e anche dell'aria, soprattutto in questa occasione perché abbiamo cercato insieme a coloro che si occupano di Soma Forum Salviamo il Paesaggio e a Respiro Verde le Galberi, che è un'associazione che abbiamo fortemente voluto alcuni anni fa proprio per la tutela del verde in città in particolare, di fare una giornata in cui fosse in particolar modo sentito l'aspetto che riguarda la parte vegetale che ci circonda, perché è parte integrante della nostra vita e se non ci fosse tutto il mondo vegetale non esisterebbe proprio una commistione di suolo, di aria, sono tutte cose estremamente correlate e legatissime anche alla nostra salute e non solo la nostra salute fisica ma anche quella della nostra mente, della nostra anima. Con il forum che ha scelto di una strada abbastanza complessa e difficile perché volendo radunare moltissime realtà che sono su tutto il territorio nazionale, si è cercato di trovare un punto condiviso e questo punto condiviso in particolar modo riguarda il suolo, il consumo del suolo che è estremamente legato a quello che gli esseri umani gli fanno letteralmente, cioè lo usano in maniera talmente direi quasi violenta da mettere addirittura a rischio la sopravvivenza sul pianeta. Quindi il forum ha pensato bene di occuparsi di mostrare come sia possibile anche a livello normativo di tutelare questa parte del pianeta che è quella su cui noi camminiamo e che di rado ci accorgiamo quanto sia importante.